SOS TCS da un cittadino, siamo in via Rosso di Sansecondo a Caltanisset. Sì, stavo facendo dalla farmacia, prendo il medicinale, sono scivolato per scansare una pozzangra in un tombino di vera Sansecondo. Allora, quello che chiediamo è la riparazione, perché quello che è successo a me non ha accaduto a altre persone. Ci sono stati danni? Sì, i danni sono stati una piccola condusione per me, ma niente di particolare. In questo tombino si è rotta anche la stambella, che per me è un mezzo molto importante per muovermi, quindi senza di questo non posso muovere. Quello che voglio dire è che sono dovuto andare a combare le stambelle perché l'asle non le passa più.